Le malattie infiammatorie croniche dell'intestino sono la culitulcerosa e la malattia di Crohn. Queste malattie hanno un grosso impatto sociale nella nostra nazione perché è stimato che siano 150.000 i pazienti affetti da queste condizioni. In Sicilia in particolare i pazienti stimati sono circa 14.000 ed essendo malattie croniche ovviamente sono malattie che impegnano sia il paziente che il medico in un trattamento costante e soprattutto negli ultimi anni con l'introduzione di farmaci biologici naturalmente l'impegno in termini di costi è diventato sempre più importante. Ovviamente il fatto che il congresso si tenga a Palermo è per noi molto importante perché il nostro centro da ben 40 anni si occupa di queste malattie e costituisce un centro di riferimento regionale per le due patologie. Un onore per noi accogliere a Palermo, fra l'altro in una sede così prestigiosa come il Teatro Politiamo, il congresso nazionale, il settimo congresso nazionale dell'IGBD ed è questa un'occasione per parlare di un progetto che il nostro centro ha avuto finanziato dal Ministero della Salute che è il progetto del piano sanitario nazionale relativo al percorso diagnostico terapeutico assistenziale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Questo progetto che è finanziato per 800 mila euro consentirà di acquisire 10 unità professionali che si potranno occupare tra medici, infermieri, data manager, anatomopatologi e psicologi che si potrà occupare del lancio dell'applicazione del percorso diagnostico terapeutico in Sicilia. Credo che la nostra sia la prima regione che applicherà questo percorso diagnostico terapeutico assistenziale è questo, spero il non troppo bellitario obiettivo di uniformare i percorsi diagnostici e terapeutico di queste malattie in tutta la Sicilia ma spero in un futuro non troppo remoto in tutta Italia.